Le strutture avrebbero portato il maggior numero di contagi in caso di mancate chiusure. Abbiamo al primo posto i ristoranti, poi le palestre, i bar, i luoghi religiosi. Sì, è un po' come la prova del 9. Ci sono vari modi di arrivare poi a cercare di capire l'effetto di queste misure. E vediamo sempre che le categorie più a rischio sono purtroppo quelle che sono. Sono quelle nelle quali si parla, si parla magari a voce alta e non si può portare sempre la mascherina. Non è che uno può andare a cena e avere la mascherina. Quindi sono proprio per la loro tipologia, il tipo di servizio che offrono sono ad alto rischio. E lo stiamo vedendo in tutto il mondo. Quindi il problema della ristorazione, che è un problema serio che si vive anche qui, è un problema che va affrontato purtroppo, almeno per un certo periodo, con delle soluzioni che comprendano questa difficoltà. Noi non possiamo da un lato dire di tenere aperti determinati strutture che sono a rischio, sono a grandissimo rischio. Quindi quello che bisogna fare è stringere i denti un altro po' e vaccinare, 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 vaccinare il più possibile. E allora spostiamo.